E qui al Suone Nautico di Venezia incontriamo il CEO di Isoclima. Buongiorno. Buongiorno a lei. Isoclima è un'azienda davvero leader nelle soluzioni trasparenti anche nel mondo della nautica. Sì, Isoclima è un'azienda con sede a Este, in provincia di Padova. Forniamo soluzioni trasparenti per il settore della nautica, per il settore dell'elicotteristica, delle vetture speciali, blindate oppure no. E lavoriamo con diversi materiali, siano essi vetro, policarbonato, acrilico. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione migliore per le loro esigenze. Nel settore nautico è da anni che lavoriamo con i maggiori cantieri italiani e europei al fine di soddisfare esigenze di carattere estetico, di carattere ottico, ma soprattutto di accompagnare i nostri clienti nella ricerca di prodotti sempre più leggeri, sempre più performanti e al fine di una maggiore sostenibilità del prodotto finale. Le faccio questa domanda. Le superfici trasparenti in barca ormai sono sempre più grandi. Quanto è importante il prodotto a livello anche strutturale? Il prodotto è estremamente importante proprio perché, come lei diceva, i vetri a scaffo fanno ormai parte della struttura dello yacht per cui devono contribuire a dare le performance di rigidità strutturale delle imbarcazioni. Il mercato in questi anni ci chiede di contribuire a questa richiesta di living dello yacht come uno spazio esterno per cui da tempo stiamo lavorando per produrre vetri di superfici sempre più importanti ma al contempo con caratteristiche sempre più resistenti. L'anno scorso abbiamo acceso il forno che è il più grande forno a livello mondiale di tempra chimica che ci permette di accompagnare il design degli architetti in questa evoluzione della struttura dell'yacht sino a superfici di 10 metri per 3. Quindi voi proprio collaborate attivamente anche alla progettazione insieme al cantiere dell'imbarcazione? Assolutamente. Sempre più interveniamo con i cantieri a monte nella fase di progettazione. Questo è estremamente importante perché ci permette di contribuire con loro alla soluzione definitiva. L'altro aspetto importante sul quale stiamo lavorando, come dicevo precedentemente, è l'aspetto della sostenibilità. Quindi in questo momento sono lo studio prodotti per riflettere quasi completamente i raggi infrarossi e quindi ridurre in maniera importante il calore all'interno delle cabine e dei punti così come quello di poter utilizzare le vetrate degli o-yacht come fotovoltaici trasparenti per la produzione di energie e quindi ridurre il consumo quando lo yacht si trova in rada ad esempio. Davvero complimenti. Quindi siete ormai proiettati verso il futuro con soluzioni davvero all'avanguardia. Dal vostro punto di vista privilegiato del mercato, come sta andando il mercato della nautica? Il mercato della nautica continua a essere un mercato in forte crescita. La domanda, come dicevo prima, dei cantieri italiani e dei cantieri europei continua a essere estremamente importante sia in termini di volumi ma, come sottolineavo, anche in termini di richieste di evoluzione del prodotto. Quindi siamo ben felici di poter contribuire a questo settore e alla sua crescita. Io le faccio i miei complimenti e la ringrazio. Grazie mille e buona giornata.